Buonasera da Fresh News, notiziario quotidiano della testata online per sempre news. La notizia del giorno è il ritorno in classe per quanto riguarda gli studenti della primaria tra Napoli e Campania. Infatti che cosa è accaduto? Il pomeriggio il TAR, il Tribunale Amministrativo Regionale, ha accolto il ricorso presentato dall'Associazione di Genitori e Familiari degli Studenti perché venisse in qualche modo annullato il decreto firmato nei giorni scorsi dal Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luba, che per motivi di emergenza sanitaria aveva disposto appunto il ripristino della didattica a distanza. Un provvedimento che fin dai primi minuti del suo varo aveva suscitato, sollevato polemiche non soltanto tra le famiglie dei piccoli studenti ma anche tra gli studenti delle scuole superiori in quanto loro dicevano noi siamo contro la DAD però abbiamo necessità di studiare, di necessità di frequentare i corsi di studio in ambienti sicuri. La maggior parte delle scuole purtroppo tra Napoli, la provincia e la regione non hanno questo tipo di sistema per cui i ragazzi chiedono sicurezza soprattutto e ci sembra anche una richiesta abbastanza logica considerato che la DAD cioè il ritorno alla didattica a distanza significa fare un passo, anzi due passi indietro perché si ritorna a un anno fa, un anno e mezzo fa quando si era nel pieno della pandemia quando non ancora si parlava di seconda ondata, terza ondata, quarta ondata. Adesso c'è la variante Omicron che si sta estendendo e espandendo, la stessa sanità incomincia a avere problemi mentre un anno, un anno e mezzo fa c'erano più hub vaccinali aperti, adesso ce ne sono soltanto due, quello verso il Loretto Mare e gli ospedali hospital covid, il Loretto Mare e l'ospedale del mare. Quindi sostanzialmente è una situazione che ci riporta un anno, un anno e mezzo fa, probabilmente il governatore che ha giustificato, ha motivato, ma secondo noi ovviamente questa è una sconfitta per il presidente della regione Campania, contro la cui decisione si era posto anche il governo e lo stesso ministro alla pubblica istruzione Bianchi. Insomma la regione Campania era l'unica ad aver deciso di ritorno alla didattica a distanza e adesso con la sentenza, con il ricorso accolto dal TAR, con il ritorno in classe, la Campania si mette alla stregua delle altre regioni. Vediamo nelle prossime ore che cosa accadrà, però sicuramente De Luca punterà i piedi, non sappiamo che cosa accadrà, comunque è tutta una battaglia da vedere e da vivere. Grazie per essere stati con noi, buonasera da Flash News, il notiziario quotidiano per sempre in uso.